Oh, un abbraccio! Mamma mia, quanto tempo è, mamma? Continua a sentire un abbraccio. Quanto mi sei montato, mamma? È l'abbraccio più tenero e desiderato, quello tra gli ospiti delle RSA e i loro familiari. Oggi, grazie alla stanza degli abbracci, è possibile farlo in sicurezza. In questo caso ci troviamo in una RSA del comune di Monte San Zavino. Questa stanza dell'abbraccio quanto significa per gli ospiti e per le famiglie? Significa veramente tutto. Era una cosa indispensabile, giusta e doverosa. Perché dopo questo lungo periodo di chiusura totale, gli ospiti avevano proprio necessità di poter rivedere le proprie famiglie, i propri cari. Oggi, per la prima volta, Maria ha rivisto la figlia e ha potuto abbracciarla, anche se loro si vedevano attraverso un vetro. E quindi questa è una cosa molto significativa e molto bella. Abbiamo aperto questa porta sull'ingresso per consentire l'accesso ai parenti, che deve essere separato da quello degli anziani. E grazie alla collaborazione di alcune ditte del territorio, che hanno fornito il materiale anche in maniera gratuita, tra cui le stoffe di Katia Meucci, abbiamo poi realizzato questo momento di abbracci. Noi ci stiamo adoperando affinché nei prossimi giorni, già da domani, io ho organizzato un'agenda per poter far venire tutti i familiari con incontri diversificati, con le opportune distanziamenti, in modo tale che possano vedere i propri familiari. Oggi c'è forse un'attenzione diversa verso strutture, come quella dove lei lavora, un'attenzione che forse nella prima ondata non c'era. Non c'era, è vero, adesso c'è un pochino più di attenzione, perché poi comunque i veicoli portanti siamo noi che veniamo dal di fuori, quindi dobbiamo stare veramente molto attenti, molto. Ma io spero che tutto questo finisca il più presto, tutto il più presto, non solo per noi, ma anche per loro, perché è giusto che veramente questi contatti riprendano un po' per tutti, perché questa poi alla fine non è la vita che vogliamo. L'abbraccio, ti è mancato? Sì. L'abbraccio, ti è mancato?